ehi a tutti vichinghi vichinghe sono miccio e bentornati nella mia rotuvalalla prima di tutto perché dovremmo aver bisogno di incrementare la mobilità del nostro polso perché ci fanno male quando andiamo in front rack o in low bar perché ci danno fastidio perché non riusciamo a raggiungere la posizione corretta questi sono tutti i problemi che accomunano un sacco di atleti specialmente nella posizione di front rack come dicevamo quindi front squat ma anche clean and jerk snatch fino a passare al bilanciere posizionato nella nostra schiena con un incastro basso in low bar spesso e volentieri quindi questo problema viene attribuito al polso alla ristretta mobilità di quest'ultimo che provoca dolore e non ci permette di raggiungere una posizione corretta solida su cui appoggiare il bilanciere quindi la soluzione è beh incrementare la mobilità del polso vediamo una routine divisa in punti come piace a noi molte delle nozioni che vi sto per elencare sono prese dal libro di Aaron Orschig the squat bible mentre altre altre sono fonte di esperienza sul campo e prove su me stesso e sui miei atleti andiamo al passo 1 come per qualsiasi routine di mobilità stretching e quant'altro preparazione comunque un esercizio consiglio sempre di iniziare con un riscaldamento prima generale poi passare sempre più nello specifico quindi alla nostra articolazione la prima cosa ancora prima di passare a strane posizioni di stretching e quindi buttare un po di sangue sull'articolazione in questione per riscaldarla olearla in modo tale da prepararla alle eminenti posizioni stressanti molto semplicemente congiungere le mani e ruotarle prima da una parte e poi dall'altra svolgerà in maniera eccellente il lavoro non c'è bisogno di stare cinque minuti ruotando le mani andando in giro per la palestra come fossimo dei pellegrini una decina di secondi per verso andrà benissimo successivamente dopo questo passo si può tranquillamente ripetere questa rotazione per rilassare i tessuti che andremo a stressare nei punti seguenti quindi passo numero 2 lo stretching del tessuto bene identificare il problema in questo caso è molto molto semplice la nostra articolazione non è in grado di estendersi fino al punto in cui interessa a noi si blocca e con il carico sulla nostra mano crea dolore non ci crederete ma lo stretching in questo caso è la cosa più semplice ed intuitiva a cui potremmo pensare mani congiunte palmi attaccati che spingono verso il basso mantenendo i palmi giunti e portando le mani al di sotto della linea del gomito easy peasy in questo modo sentiremo un allungamento dei tessuti dei muscoli flessori del polso allungamento da mantenere circa una decina di secondi nel caso in cui ci si ci si stia preparando ad un front squat o ad un low bar un ottimo modo per stracciare le articolazioni in questione semplicemente prendere il bilanciere caricarlo con una sessantina di chili 80 100 kg giusto per metterci un po di peso e tenerlo nella posizione desiderata per 30 60 secondi quindi carichiamo il bilanciere lo togliamo dal rack ci posizioniamo e restiamo così fermi se questo non dovesse bastare possiamo passare al passo numero 3 mobilitazione dell'articolazione è possibile che già con il riscaldamento e lo stretching fatti nei punti precedenti il polso abbia già ottenuto nuova vita e siamo già in grado di portarci ad assumere la posizione al rack che stiamo desiderando che stiamo ricercando se questo non accade vuol dire che bisogna agire a livello di mobilitazione dei tessuti dell'articolazione per fare in modo di proprio poter manipolare in modo il modo in cui questo si muove l'articolazione come fare ci servirà un elastico e avere un minimo di conoscenza anatomica del nostro polso toccandoti il polso senti due piccole ossa direttamente sotto la mano bene queste due palline nel momento in cui estendiamo il polso si muoveranno verso avanti mentre radio e ulna che sono le ossa più grandi del nostro avambraccio si muoveranno verso indietro molto semplice bene quello che faremo con la banda sarà proprio accomodare questo movimento meccanico fisiologico che nel nostro polso potrebbe non essere troppo efficiente cercando quindi di renderlo in due posizioni molto semplici la prima posizione contrasta la forza dell'elastico quindi adesso occhio perché questo passaggio potrebbe essere un po bastardino lo dividiamo in tre punti per renderlo ancora più semplice punto numero uno lega la banda a qualcosa di solido il rack va benissimo e posiziona l'estremità libera della banda nella posizione più estrema della mano quella più vicina al polso ma che comunque corrisponde sempre alla mano il dorso della mano sopra appunto quelle due ossa che abbiamo sentito toccandoci il polso prima punto numero due possiamo ora posizionare mettere la mano su un piccolo rialzo per fare per favorire il movimento di estensione qui se avremmo messo correttamente la banda saremo in grado di spingerla verso il basso come state venendo in video punto numero tre tiro verso l'alto il braccio combattendo la forza dell'elastico e quindi verso avanti accomodando il movimento fisiologico delle nostre ossa di cui abbiamo parlato prima ora sentirai lo stesso un po di allungamento come prima però non è questo il nostro obiettivo l'obiettivo è proprio di mobilitare il tessuto dell'articolazione che potrebbe essere in mezzo alle palle detto in gergo tecnico ok una ripetizione consiste nel allungare mantenere 4 5 secondi nella posizione deliderata e tornare indietro facciamo 10 15 ripetizioni per esercizio di questo esercizio per mano andiamo ora alla seconda posizione che in questo caso al contrario di prima invece che essere contrastante alla forza dell'elastico la assiste ci va incontro anche qui sulla base di tutto quello che abbiamo detto prima faremo l'esatto opposto della posizione precedente prima stavamo andando contro la resistenza dell'elastico ora l'accomoderemo per favorire il movimento opposto come prima tiro verso l'alto e quindi verso avanti questa volta seguendo la tensione dell'elastico successivamente dopo questi tre semplici passi dovremmo essere in grado di accomodare molto meglio il bilanciere nella posizione desiderata come ho detto per il video del posizionamento dello squat low bar è importante riuscire a distinguere l'affaticamento il fastidio la scomodità dell'esercizio dal vero e proprio dolore prendere una posizione di front squat di low bar non è una posizione comoda come possiamo immaginare ed è importante non confondere questa scomodità con il dolore del posizionamento bene vichinghi vichinghe questo era il video se il video vi è piaciuto vi invito a mi piacere il video come se non ci possono domani commentate qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti attivate la campanellina delle notifiche se non l'avete ancora attivata noi ci vediamo assolutamente in un prossimo video vichinghi e vichinghe io vi ringrazio per la visione e ciao grazie ciao